Alexis Sanchez, Lautaro Martinez, Edin Dzeko oppure una clamorosa possibile sorpresa. Quale sarà il futuro dell'attacco dell'Inter per questo finale di stagione? Che cosa succederà? Come cambieranno le gerarchie? Chi saranno gli attaccanti titolari dell'Inter in questa volata su tutti i fronti tra Scudetto, Champions e Coppa Italia? Abbiamo deciso di fare un'analisi giocatore per giocatore, situazione per situazione per cercare di capire che cosa sta succedendo, come stanno cambiando gli equilibri all'interno del reparto offensivo di mister Simone Inzaghi e abbiamo cercato anche di fare un'analisi approfondita per capire appunto che cosa possiamo aspettarci dall'attacco dell'Inter in questa fase in cui le partite cominciano davvero a diventare ovviamente decisive. Per cui amiche amici interisti, amiche amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio. Vi ricordo prima di partire come al solito di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto è fondamentale per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti neanche una delle nostre dirette dirette in cui tra l'altro andiamo a rispondere alle vostre domande aggiuntive anche su questi contenuti che appunto vi proponiamo in maniera registrata se avete delle domande ulteriori in diretta vi rispondiamo e tra l'altro dalle dirette appunto arrivano anche gli spunti da cui poi costruiamo questi approfondimenti come quello eh di oggi. Un approfondimento in cui eh come detto faremo un viaggio nell'attacco dell'Inter mi farò aiutare anche da alcune grafiche che abbiamo realizzato e che trovate anche sul nostro sito passioneinter.com e direi di partire quindi con questo viaggio all'interno dell'attacco dell'Inter dal primo nome dall'analisi di quella che è stata fin qui la stagione di Edin Dzeko un attaccante piuttosto esperto visto che eh è ormai prossimo ai trentasei anni arrivato in estate dalla Roma di fatto a parametro zero o quasi un giocatore che è stato più volte vicino all'Inter finalmente ha raggiunto la Milano Neroazzurra ed è diventato a tutti gli effetti un perno un giocatore fondamentale per mister Simone Inzaghi i numeri dicono trentadue presenze fino ad ora tra tutte le competizioni con duemila duecento ventiquattro minuti giocati tredici gol sette assist ciò vuol dire la traduzione è un gol contribuisce comunque ad un gol Edin Dzeko ogni cento undici minuti di fatto si potrebbe quasi dire che con Dzeko in campo si parte quasi uno a zero praticamente sempre media voto stagionale secondo il portale Huskord un portale statistico importante è di sette punto diciotto quindi sicuramente una stagione positiva all' interno della quale però chiaramente ha vissuto alti e bassi eh con dei periodi di difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico ormai non più giovanissimo chiaramente reggere eh tutti tutte le settimane tre partite a questi ritmi non è eh semplicissimo ma è stato un giocatore che sicuramente si è saputo rendere utile non solo in zona gol dove i numeri sono molto importanti anche se diverse reti anche facili purtroppo le ha sbagliate ma anche perché è mancato di lucidità anche in seguito al grande lavoro che ha fatto eh per aiutare tutta la squadra. Sappiamo benissimo che con Edin Dzeko avremmo avuto sì un possibile cannoniere ma anche soprattutto un regista d'attacco così è stato spesso eh ribattezzato ed è un giocatore che si spende anche in difesa anche per la squadra e soprattutto crea gli spazi per gli inserimenti degli altri giocatori dai centrocampisti ai compagni di reparto e gli esterni che ne stanno sicuramente beneficiando e questo eh lo si vede anche nella hit map con le zone di azione dove sta maggiormente giocando Edin Dzeko dove sta toccando il pallone che ci dimostrano come Edin Dzeko preso per sostituire Romelu Lukaku eh stia di fatto giocando in maniera molto molto differente ad un Romelu Lukaku che nella scorsa stagione duemilaventi duemilaventuno come vedete dalla hit map evidenziata qui nella nostra grafica era un giocatore sì anche lui molto mobile che lasciava spazio agli inserimenti ma che eh veniva molto spesso anche a recuperare il pallone più basso per poi partire in azione personale e in ogni caso giocava maggiormente eh sulla zona sul centro destra diciamo così per poi andare a concludere in area di rigore eh la hit map invece di Edin Dzeko nella stagione duemilaventuno duemilaventidue è chiaramente meno rossa perché lo specifichiamo i dati eh sono minori in questo momento non avendo ancora completato la stagione chiaramente ma è più tra virgolette omogenea possiamo dire o comunque ehm è più sparsa su tutte le zone di campo con una particolare concentrazione però nella zona di centro campo dove molto spesso si abbassa sia per aiutare in difesa ma anche per venire a fare le sponde per ricevere anche i lanci lunghi di Samir Andanovic o dei difensori e poi molto di più anche a centro area dove appunto si sta convertendo in una boa importante e dove sta spesso approfittando delle occasioni che capitano lì all'interno dell'area di rigore quindi Edin Dzeko un giocatore che sta facendo un grande lavoro anche a tutto campo ed è questa sicuramente una prima differenza che vediamo nell'Inter di Simone Inzaghi rispetto a quella che è stata l'Inter di Antonio Conte l'anno scorso l'attaccante è il giocatore che fa giocare bene la squadra solitamente o comunque il giocatore che indirizza anche le manovre eh della della squadra è chiaro che passando da Lukaku a Giacomo sono cambiate molte cose da qui quindi possiamo poi allargare qualche riflessione anche sul compagno di reparto perché Lautaro Martinez era sicuramente atteso quest'anno alla stagione della consacrazione eh tutti quanti ci siamo aspettati io spesso l'ho detto all'inizio della stagione senza Lukaku è chiaro che da Lautaro Martinez ci aspettiamo una crescita come leader eh della squadra e dell'attacco e ci aspettiamo una crescita anche dal punto di vista eh banalmente numerico dei gol segnati e degli assist eh è stata anche per lui fin qui una stagione molto eh altalenante non ha segnato fino ad ora in Champions League un po' il vero neo di questa stagione di Lautaro che in trenta presenze complessive ha messo insieme millenovecento quattro minuti giocati con dodici gol assegnati e due assist quindi se sommiamo gol e assist significa che Lautaro Martinez sta contribuendo ad un gol dell'Inter ogni centotrentasei minuti una media leggermente peggiore quindi rispetto a quella di Edin Dzeko con un voto stagionale secondo who scored di sei punto novantotto eh c'è da dire che eh ad oggi Lautaro Martinez chiaramente eh non è un giocatore un nove statico che rimane in area di rigore ad aspettare le occasioni da gol e a timbrare il cartellino ma è un attaccante di grande movimento che aiuta molto la squadra ad aprire gli spazi a far rifiatare anche il resto della squadra e anche quando non è in possesso palla è un giocatore che cerca di creare scompiglio di portare via uomini e quindi di fare un lavoro che favorisca anche i compagni e questo lo vediamo anche qui nella heat map che ci dimostra come rispetto all'anno scorso con la Lukaku al suo fianco avendo oggi un Edin Dzeko o in alcune occasioni Alexis Sanchez anche il modo di giocare il modo di occupare il campo di Lautaro Martinez è cambiato l'anno scorso lo lo vediamo era concentrato soprattutto nella zona centrale del campo sì faceva un grande lavoro anche fuori dall'area di rigore ma era sempre concentrato nella zona centrale quella un po' più calda dove c'è più densità anche di uomini del del campo quest'anno stagione duemilaventidue grafica sulla destra dello schermo vediamo Lautaro sempre molto attivo in tutte le zone del campo molto più attivo anche a centro campo anche lui si alterna con Edin Dzeko soprattutto per venire a ricevere palla basso in mezzo al campo ma poi soprattutto vediamo è abbastanza evidente la tendenza a partire da più largo più sulla sinistra e spesso lascia il suo ruolo al centro dell'area anche agli esterni vediamo spesso anche Dufres o gli stessi barella che vanno a riempire lo spazio lì nell'area di rigore dove poi Lautaro invece chiaramente essendo un attaccante si ritrova poi ad andare a concludere con frequenza ma non eccessiva ecco diciamo così sembra chiara quindi almeno dal mio punto di vista la tendenza a partire anche un po' più dalla fascia rispetto all'anno scorso in cui con la boa Lukaku erano anche più vicini e i due infatti avevano anche un feeling molto particolare che invece secondo me tra Lautaro e Dzeko va ancora affinato chi invece sta cercando di approfittarne di questa affinità di coppia ancora da trovare al cento per cento è sicuramente Alexis Sanchez che era partito in sordina era stato limitato ancora una volta dai problemi fisici ricordiamo tra l'altro in queste ore ha spuntato anche un retroscena con Simone Inzaghi che ricorderete quel famoso post su Instagram di Alexis Sanchez in cui si lamentava di fatto del poco spazio a disposizione ebbene Simone Inzaghi proprio in quel periodo avrebbe avuto un confronto diretto con Alexis confermandogli che gli avrebbe dato fiducia e di fatti gli stanno dando ragione perché piano piano è entrato sempre più nel vivo e ad accumulato fino ad ora 23 presenze 884 minuti giocati molti meno rispetto agli altri due compagni chiaramente ma comunque spezzoni importanti in cui è riuscito a mettere insieme sei gol e quattro assist che si tramutano in una media che porta Alexis Sanchez ad avere una contribuzione contribuisce ad un gol dell'Inter ogni 88 minuti qui si verrebbe da dire nei numeri manualmente che con Alexis in campo si parte uno a zero di fatto media voto stagionale per ora secondo who scored di sei punto eh sessanta quattro un Alexis Sanchez che non ha variato però più di tanto il suo modo di giocare se Lautaro e Dzeko quindi eh sono hanno avuto un impiego differente rispetto ai Lautaro e Lukaku dell'anno scorso Alexis come vediamo nelle hitmap gioca più o meno nella stessa eh porzione di campo con lo stesso stile con una forte presenza quindi tra le linee sulla tre quarti eh e meno presenza in area di rigore dove appunto sono più Lautaro o Dzeko ad andare a eh concludere quindi questa è sicuramente una eh considerazione interessante con un Alexis che viene utilizzato di fatto nello stesso modo in cui veniva utilizzato l'anno scorso e si dimostra essere probabilmente tra i tre attaccanti che abbiamo visto fino ad ora quello più spendibile eh con entrambi cioè forse Alexis si integra bene sia con Lautaro che è Dzeko dal punto di vista puramente delle zone di campo in cui eh manovra detto di Alexis eh nel reparto dell'Inter ci sono poi anche Correa e Caicedo giocatori che abbiamo visto pochissimo Correa che ha avuto diversi problemi fisici eh con 683 minuti giocati fino a qui quattro gol e un assist quindi ha contribuito ad un gol ogni eh 136 minuti fino ad ora eh Joaquin Correa mentre Caicedo arriva da un'esperienza del genere piuttosto negativa con nove presenze soltanto ma eh soprattutto soli 276 minuti un gol e tre assist la media dice che ha contribuito ad un gol ogni 69 minuti quindi è sicuramente una buona media ma è chiaro che ci si aspettava molto di più e ci si aspetta un ruolo importante in quest'Inter chiaramente da rincalzo da subentrante così come da Correa per il momento parte sicuramente dietro rispetto a Lautaro Dzeko e Alexis Sanchez nelle gerarchie eh dell'attacco di Simone Zaghi. Quali possono essere quindi le conclusioni che possiamo trarre da questi numeri e dalla nostra analisi per cercare di capire che cosa possiamo aspettarci dall'attacco dell'Inter nel prossimo eh futuro. I numeri eh banalmente direbbero che in questo momento Alexis Sanchez è tra i giocatori più utilizzati tra quelli che sono stati più eh presenti in questa stagione eh il migliore sostanzialmente tra gol e assist per minuti giocati e quindi si candida prepotentemente e giustamente ad un ruolo importante nello scacchiere dell'Inter. Allo stesso tempo appare piuttosto evidente che eh per Simone Zaghi sia sempre fondamentale avere in campo almeno uno tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Eh a questo punto quindi facendo uno più uno considerando quindi che Dzeko e Lautaro almeno uno è fondamentale che Sanchez si sta candidando sempre più prepotentemente ad essere titolare eh sembra un po' un controsenso però probabilmente a rischiare maggiormente la panchina almeno nell'immediato potrebbe essere Lautaro Martinez eh l'argentino di fatto è a secco da diverse partite non segna in campionato su azione addirittura da da dicembre sostanzialmente e eh dall'altra parte invece c'è un Edin Dzeko che sta acquisendo sempre più un ruolo eh di leader nonostante anche lui qualche prestazione eh appannata. Da qui a dire però se possiamo aspettarci un cambio definitivo nelle gerarchie per tutta la prosecuzione della stagione francamente mi sembra troppo e sinceramente mi sorprenderebbe perché eh non credo nemmeno sia una scelta migliore far scavalcare Lautaro Martinez da Alexis Sanchez nelle gerarchie eh considerando innanzitutto che Alex eh che Lautaro scusate si trova secondo me in un all'interno di un percorso di crescita e di evoluzione che eh tra errori alcune partite rivedibili sta continuando a portare avanti il suo percorso di crescita e interromperlo sarebbe davvero un peccato perché per me Lautaro ha un futuro da grande centravanti ha un potenziale eh veramente enorme e finalmente dopo varie stagioni di riadattamento di cambiamenti vari si sta sempre più indirizzando su quella strada del ruolo di centravanti e finalmente secondo me è nelle condizioni di poter esplodere gli va solo data fiducia gli vanno dati gli strumenti anche per potersi eh sbloccare e per poter avere maggior fiducia e magari per poter giocare appunto anche un po' più vicino eh alla porta allo stesso tempo però eh attenzione perché le partite eh sono tante ci sono tante gare ravvicinate e molto molto importanti e allora attenzione anche ad una possibile sorpresa che mettiamo lì sul tavolo che secondo me non è totalmente campata eh per aria perché se Lautaro Dzeko se Dzeko è fondamentale Lautaro è una giocatore da tenere assolutamente da far esplodere e da far crescere Alexis Sanchez sta facendo molto bene ed è un leone in gabbia che va sicuramente eh valorizzato eh consideriamo attorno a questi tre giocatori che presto finalmente potremo riavere Caicedo e speriamo anche Correa molto presto allora una possibile soluzione da tenere d'occhio a quella che eh prevede un Alexis Sanchez a ridosso alle spalle di Lautaro e eh ed in Dzeko una uno schieramento un po' spregiudicato comunque molto eh offensivo che permetterebbe all'inter di tenere il baricentro eh più alto e allo stesso tempo anche di alleggerire il ruolo del centrocampo dove stiamo vedendo che al momento le alternative titolari non stanno del tutto convincendo quindi un Sanchez trequartista a sostegno di due eh attaccanti potrebbe essere una valida alternativa al consueto tre cinque due che non è scolpito nella pietra ma si può eh variare Simone Inzaghi ha già dato dimostrazione di essere aperto al cambiamento sarebbe secondo me una soluzione interessante che permetterebbe appunto ai centrocampisti titolari anche di poter eh rifiatare perché potresti andare ad impegnare due centrocampisti anziché eh tre e soprattutto considerando che appunto a gennaio questo secondo me può essere anche un indizio delle possibili scelte di Inzaghi da qui in avanti partito Sensi non si è deciso di non andare a prendere un altro centrocampista questa potrebbe essere un'altra indicazione oltretutto chiudo con questa considerazione sulla base di un'analisi che abbiamo fatto su passioninter.com tra novembre e dicembre che abbiamo aggiornato in questa fase l'Inter in quel mese lì tra novembre e dicembre aveva svoltato aveva iniziato a giocare ancora meglio a segnare ancora di più e ad avere più equilibrio facendo l'opposto di quello che aveva fatto Antonio Conte cioè alzando il baricentro e giocando in maniera anche più offensiva e lì l'Inter diventò una macchina quasi perfetta all'inizio del duemilaventidue invece come abbiamo evidenziato nella nostra analisi su passioninter.com è successo un po' al contrario l'Inter ha abbassato il proprio baricentro medio nelle sfide tra campionato Coppa e Supercoppa di inizio duemilaventidue tra gennaio ed inizio febbraio il risultato lo abbiamo visto tutti è stata un Inter un po' meno brillante e anche meno precisa in zona gol e infatti anche la media gol a partita è drasticamente calata rispetto alla prima parte di stagione e allora vediamo come si svilupperà la situazione in attacco per l'Inter da qui in avanti noi abbiamo proposto anche questa possibile soluzione appunto di un Sanchez da liberare alle spalle di Lautaro Martinez e Dzeko fatemi pensare che cosa ne pensate anche voi di questa possibile soluzione eh vi chiedo di scrivervi nei commenti anche chi secondo voi dovrebbe essere titolare da da chi dovrebbe essere composto l'attacco titolare dell'Inter nei big match in questo finale di stagione e datemi un feedback anche sui nostri approfondimenti e sulla nostra analisi che abbiamo fatto in questo episodio di oggi se mi avete seguito fino a qui come al solito vi chiedo di farmelo sapere con le moci facciamo le moci del pallone sperando che ci portino tanti gol e vi ricordo come al solito che se volete potete sostenere il nostro progetto i nostri sforzi tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto mi raccomando vi aspetto poi in diretta come ogni giorno alle diciannove e trenta grazie a tutti i nostri sforzi tramite grazie a tutti i nostri sforzi tramite